ciao ciao a tutti buona giornata buon pomeriggio e bentornati e bentrovati sul canale oggi videuzzo veloce 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 sui prodotti preferiti capelli e corpo del momento non è che avevo organizzato di farlo è però ieri stavo utilizzando questi prodotti e mentre li utilizzavo dicevo cavoli sono proprio buoni lo sapete che io ho tante cose in scorta ma poche cose aperte e allora ho detto vabbè dai 10 minuti un quarto d'ora ve li faccio vedere velocemente così magari possono essere di spunto anche a voi perché poi avevo messo insieme anche quelli del viso e della skin care ma erano troppi sarebbe stato troppo lungo e oggi pomeriggio non non riuscivo a girarlo da prepararlo bene quindi oggi chiacchierata con i prodotti preferiti per i capelli e sì per il corpo corpo creme vediamo quello che salta fuori salta fuori tanto così per passare un qualche minutino insieme e rilassarci allora per prima cosa sto utilizzando questi due shampoo questo shampoo e questo balsamo che avevo comprato se vi ricordate in al dm la prima volta che era andata e mi sto trovando mi sto trovando benissimo mi sto trovando benissimo praticamente lo shampoo è finito il balsamo quasi e manca ancora una un'applicazione e diciamo aiutano a mantenere i riflessi biondi allora devo dire la verità probabilmente questo non è proprio quello indicato al biondo che ho adesso io ma comunque non me li fa diventare gialli cioè mi mantiene sempre il riflesso bello bello vivo bello bello lucido se non ricordo male avevo visto forse da elisabetta r che c'è anche il prodotto quello proprio indicato per i capelli biondo platino e quindi la prossima volta che andrò al dm cercherò cercherò quello però devo dire che sono ottimi sono ottimi il balsamo è districante ma non appesantisce i capelli io ho un capello grasso anche se con i colpi di sole le mesh sicuramente si si asciuga però ho un capello grasso e devo dire che comunque due giorni tutti interi cioè io di solito lavo i capelli lunedì il mercoledì e sabato venerdì sabato dipende dalle volte e perché se li lavo troppo frequentemente poi mi si sporcano ancora di più e francamente con questo shampoo e con questo bassa non mi resiste mi resiste bene e mi piace mi piace davvero tanto per appunto secondo me per il prezzo che costano e la qualità la qualità c'è non hanno siliconi contengono cheratina olio di girasole e mette in risalto riflessi è vero perché io mi sono accorta che se lo tenete in posa un po il balsamo e anche lo shampoo comunque schiariscono veramente i riflessi li fanno più lucenti più biondi quindi se vi capita di andare al dm di trovarli e avete i capelli tinti mi pare di aver visto anche altre altre colorazioni secondo me sono un ottimo aiuto per mantenere di più il colore del parrucchiere ma la scoperta favolosa che mi ha fatto fare la mia parrucchiera è stata questa maschera allora no è fantastica io la quarta volta che la sto usando e mi sono accorta che fa la differenza flash mask di fricolo color professional lo trovate al tigota costa 5 euro e 45 euro 50 un barattoli tubetto da 150 ml questa è biondo platino 5 minuti maschera riflessante ristrutturante ma sul serio è proprio sul serio perché allora maschera per ravvivare le mesh e i capelli colorati colorati applicare il prodotto sui capelli ok usare i guanti perché è così è violettina vedete violetta ha un buonissimo profumo io sul consiglio della mia parrucchiera la faccio due volte a settimana mi ha detto di iniziare coi 5 minuti ma io di botto sono andata coi 10 minuti a un quarto d'ora ed effettivamente i capelli sono molto 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 più quei riflessi freddici e questa fa veramente il suo lavoro e lo fa al bacio veramente c'è per tutte le tonalità di capelle per il biondo miele per il color ramato per l'azzurro per il viola ora io quelli non so se funzionano e perché secondo me comunque per avere un effetto intensificante del colore non bisogna cioè ci deve essere sotto la tinta o comunque la decolorazione dei capelli questo questo funziona funziona tantissimo lascia i capelli morbidissimi spessi al quando li asciughi col fono sono ma veramente cioè proprio stupende mi piace mi piace da morire ottima scoperta so che la elisabetta r l'aveva l'aveva già fatta io come come al solito arrivo sempre per ultima su queste cose ma perché a mio tigotà questa è arrivata solo in queste settimane anche la mia parrucchiera l'ha trovata solo solo in questo ultimo periodo e mi pare di aver visto anche lo shampoo e il balsamo di sicuro di due o tre tonalità di due o tre per altre due o tre colorazioni non ricordo se anche di di questo ma mi pare anche 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 sì anche sì quindi una volta che avrò finito che avrò finito questi del biondo e il mio barattolone da un litro professional e quelli vabbè mi durano tantissimo volevo volevo provare anzi sicuramente non aspetterò che finisca il barattolone da un litro ma vado a vedere se ci sono e li prendo e li provo perché perché se funzionano come questa sono davvero spettacolari davvero spettacolari poi sempre per i capelli ho provato allora io non sapevo che esistesse lo scrub per il cuoio capellito perdonatemi non li ho mai usati non sapevo che esistessero ora li ho scoperti li ho scoperti perché anche al tigota ho visto dei prodotti poi ne avevo comprato uno la lucia io sto utilizzando questo e mi piace da morire si chiama happy scalp della beauty jar è fatto con il salto ci sono dei leggeri tensioattivi perché comunque fa un po di schiumetta c'è il sale l'olio essenziale di t3 e menta e si sente tantissimo e quando voi lo mettete sul capello proprio bello bagnato prima di fare di fare lo shampoo e poi pian piano massaggiate sentite il cuoio capelluto raffreddato c'è come quando avete presente che ci sono quei gel doccia alla menta piperita o la menta ghiacciata d'estate che sentite quasi il freddo ma non freddo fastidioso è fantastico e rinfrescante sgrassa tantissimo il cuoio capelluto io questo l'ho trovato su makeup.it e mi sta piacendo mi sta piacendo tantissimo ovviamente lo utilizzo una volta alla settimana quando faccio lo shampoo delicato normale e alterno a quelli per i capelli trattati ne uso una bella quantità così prima lo miscelo sulle mani con un po di acqua in modo che faccia un po di schiumetta e poi me lo metto me lo metto sul cuoio capelluto ovviamente io ho i capelli corti e non c'è avendo i capelli lunghi secondo me ne consumate anche di più anche se va soltanto sul cuoio capelluto ma perché il cappello poi se lo mangia questo è veramente veramente ottimo sono 100 100 grammi mi piace e sicuramente lo riprenderò 90 100 sì 90 100 90 100 150 figura la canta va bene ok siamo andate anche oggi 99 per cento di ingredienti naturali se riuscissi a vedere ma è scritto in polacco e in inglese quindi evito di fare qualsiasi tipo di figura comunque è uno scrub salino con olio di tea tree e olio essenziale di menta buono 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 se non avete come me mai provato a fare uno scrub del cuoio capelluto vi consiglio perché se utilizzate il prodotto giusto è veramente molto molto piacevole lascia proprio la cute molto fresca e ed è c'è proprio una sensazione di leggerezza di freschezza non l'avevo mai provato non mi è piaciuto e quindi questo ve lo consiglio per i capelli nulla più vi faccio vedere ah no no per i capelli sì la mia amica moira di make up idea idea make up idea poi vi lascio comunque riferimento è una ragazza splendida che ha anche lei un canale youtube io la seguo l'ho scoperta proprio per caso come ho scoperto tantissime bellissime persone iniziando anche questo nuovo così scusate questo nuovo percorso alla ricerca della bellezza e la seguo perché è molto brava nel trucco da poco ho scoperto che anche la sua professione infatti è veramente molto brava è sempre molto raffinata molto ha un trucco molto elegante è una bellissima ragazza una bellissima persona con una bellissima famiglia mi piace tanto e ha consigliato uno shampoo secco allora i miei ricordi degli shampoo secchi sono quelli di quando ero bambina e non so anche voi penso di non svelare nessun tipo di segreto insomma l'acqua costava non tutti avevano la vasca da bagno e il bagno riscaldato per potersi fare la doccia da noi non esisteva cioè io la doccia l'ho scoperta parecchi anni dopo quando ero piccolina io e quindi per tirare in là i capelli io mi ricordo che la mia mamma mi faceva spesse volte ma io ma anche tante mie amiche perché è una cosa che che so che ci raccontavamo no quando quando si racconta che il sabato il sabato era il giorno del bagno ci si lavava tutti i giorni ma il sabato era il giorno in cui si faceva il bagno si mangiavano i toast e si guardava schiaccia pensieri sulla tv svizzera per noi che eravamo qua della della lombardia no questo era il rituale ma io mi sono accorta che tanta gente tanta gente il sabato faceva il bagno mangiava i toast e si guardava schiaccia pensieri scaccia pensieri scaccia pensieri scaccia pensieri sulla tv svizzera quindi c'era quel elefante non era un misto tra un elefante un formichiere tutto colorato con le strisce le strisce arcobalino eravamo moderni già allora insomma e mi ricordo che mia mamma usava spesso lo shampoo secco quindi io ho sempre avuto una repulsione perché mi dava l'impressione di essere una persona sporca perché i capelli si lavano e non si usa lo shampoo secco poi ho scoperto tanti video tante ragazze che lo usavano e ovviamente non è che uno sta due settimane senza lavarsi i capelli però magari che ne so ti lavi i capelli un giorno sì un giorno no oppure ogni due giorni c'è un pomeriggio che vedi che sono particolarmente pesanti e devi uscire non fai in tempo a lavarli non fai in tempo a farti la doccia può essere utile comunque avere sempre in casa e io l'ho provato l'ho provato sono stata tentata da da moira l'ho provato lei dice che si trova che lei ha sempre ha detto che si 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 trova bene ed effettivamente l'ho provato settimana scorsa e mi è mi è piaciuto mi è piaciuto mi ha allungato di mezza giornata settimana scorsa è stata una settimana veramente molto pesante dal punto di vista di di impegni non ero mai in casa se ero in casa non facevo in tempo a fare le cose e quindi ho provato ad utilizzarlo mi è piaciuto tantissimo ha questo profumo di cetriolo molto fresco e e nulla e quindi io ve lo consiglio come lei lo ha consigliato a me perché secondo me da tenere può può servire insomma in un momento di necessità ovviamente non è che uno utilizza sempre quando ha la necessità di così correre un po il buco perché non si riesce a sistemare i capelli in velocità questo secondo me è ottimo poi per i capelli non ho più nulla e vi faccio vedere la mia cosa preferitissima allora so che anche questo tanti 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 di voi lo conoscono nux olio prodigioso floreale ma io me ne sono innamorata lo sto centellinando io ce l'ho forse da più di due mesi ma ne faccio una spruzzatina piccola 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 me la metto un po qui un po sulle braccia non lo metto sul corpo e me lo spruzzo un po sui capelli quando ho lavato i capelli perché ha un profumo paradisiaco paradisiaco un intensità di mix floreale molto molto intenso se non vi piacciono i profumi non ve lo consiglio perché questo è tanta roba questo è molto too much è un olio secco quindi si assorbe velocemente ragazzi è una meraviglia contiene un mix di oli naturali e olio secco multifunzione viso corpo e capelli no sul corpo no non lo spreco così cioè me lo metto sempre solo sulle braccia come se fosse il profumo vediamo se riesco a... no volevo capire quali oli essenziali c'erano dentro ma non li vedo non li vedo perché erano sulla scatola comunque nux so che è famosissimo perché anche tutte le mie amiche che non fanno la skin care che non guardano neanche i video dei cosmetici una botta di gente che lo conosce e lo usa da anni e da decenni ecco la eli valsecchi non lo conosceva lo ha scoperto adesso e ha fatto una scoperta fantastica mi capita di metterlo qualche volta a fine skin care sul viso alla sera però perché mamma mia ragazzi cioè da urlo da urlo spettacolare se vi piacciono gli oli secchi per il corpo per il viso provatelo perché questo però è veramente molto molto profumato e quindi lo consiglio solo a chi come me ama il profumo altro crema sorbetto per il corpo che sto utilizzando e lo sto centelinando l'ho cominciato da una settimana allora di questo ne basta veramente pochissimo questo spero simona spero che sia... cioè io ricordo che l'avevi consigliato tu perché ne avevi parlato benissimo in un tuo video sto parlando della simona beauty passion che ormai cito in ogni mio video perché è la mia guru dei cosmetici e questo è un latte corpo che si assorbe velocissimamente ma ne basta pochissimo ne basta pochissimo una spruzzata mi basta per tutto il braccio perché poi io appunto sono molto parsimonioso su queste cose e poi le cose buone non le voglio sprecare buonissimo questo allora illuminante allora illuminante io non mi sono accorta però secondo me è molto molto nutriente e molto idratante anche se ne basta ne basta pochissimo l'altra volta ve l'avevo fatto vedere perché era nei regali di compleanno che mi aveva mi aveva fatto la mia mamma e c'è vediamo in italiano qua c'è scritto trattamento quotidiano rinfresca rigenera la pelle c'è l'oleolito di calendula che è emolliente rivitalizzante estratto di fico d'india insomma è una grande la pelle ritrova elasticità e luminosità in virtù dell'estratto di verbasco che non so che cosa sia ve l'ho detto anche l'altra volta che esalta lo splendore della cute allora questo sulla pelle il profumo è delizioso proprio da da spada da crema coccolosa vedete è proprio se ma sempre sul braccio rifaccio mungola lo so lo rifaccio qua facciamo così sul palmo della mano tac e vedete molto leggero però mamma che buono lo metto anche qua e anche questi insomma questi due qua io me li sto centellinando un pezzo con il braccio faccio questo un pezzo con il corpo faccio questo e vabbè e mi scortavo veramente tantissime creme però non mi piace aprirne troppe dopo paura che magari devo buttarle e allora questi due questi due le utilizzo alla sera e questa la utilizzo di giorno questa è stata una fantastica scoperta anche questa è quella che mi ha regalato la mia collega ma ne ho anche un'altra scorta che avevo comprato io pensavo fosse molto molto più pesante invece è molto leggera anzi vedete che tra un po' cade anche giù perché è molto gelosa guardate è una specie di di mousse di sorbetto gel ma è fantastica si assorbe subito non fascia bianca profumo delizioso di crema corpo di una volta in realtà una via di mezzo no ma neanche a parte che adesso c'è sotto il profumo dell'olio sì una crema corpo che usavo ai tempi sui miei bambini adesso non me la ricordo più no non era la Nivea perché la Nivea è molto più più intensa come profumazione comunque è davvero morbidissima si assorbe e la pelle rimane morbida tutto il giorno rimane morbida tutto il giorno anche alla sera io la metto alla mattina e davvero sento la pelle morbidissima mi piace proprio tanto poi altro prodotto col quale mi sto trovando bene adesso ho tutte le mani unte non riesco ad aprirlo non riesco ad aprirlo non riesco ad aprirlo non riesco ad aprirlo eccola qua questa che è anche questa era stata consigliata da Elisabetta ed è una matitona per occhi con protezione 50 siccome io la crema SPF la metto non proprio vicino vicino all'occhio la metto proprio qua fin dove arriva l'occhiale è vero che ho gli occhiali che sono con le lenti che si scuriscono e si schiariscono vedete che non mi vengono le parole cioè io le so le cose cioè veramente le so però quando sono qui davanti alla videocamera non me le ricordo più vabbè comunque foto sensi foto sensi foto vabbè vabbè comunque e allora tante volte ah è vero che ho la lente che protegge però tante volte quando c'è il sole è il il raggio di sole penetra ancora più velocemente e allora ho pensato di acquistare questa mi sto trovando benissimo perché la metto dopo aver messo la crema viso SPF la metto sull'occhio e poi ci applico un il correttore e mi sembra che il correttore sia molto più aderente alla pelle cioè rimanga molto molto di più e e nulla questo l'ho trovato su una parafarmacia perché era andato esaurito un po' di volte l'ho trovato anche abbastanza scontato poi comunque nell'info box vi metto tutti i riferimenti penso di essere così svarionata per il vento che c'è perché va bene che le cose non me le ricordo va bene che sono diventata vecchia ma ragazzi così tanto vabbè e nulla e quindi io non sapevo neanche anche dell'esistenza di una matita che fungesse da protezione solare per gli occhi e l'ho scoperto e mi è piaciuta questa idea ed effettivamente mi accorgo che comunque anche quando metto il correttore il correttore è molto più stabile e rimane molto più molto più fissato altro prodotto così random per gli occhi che all'inizio non mi aveva fatto impazzire ma adesso mi piace tantissimo questo l'avevo scoperto tramite la mia amica Antonella del canale Fare Disfare e lei ne aveva preso una quantità industriale diceva che non poteva vivere senza io l'ho comprato al momento ma ho detto probabilmente per le mie per le mie ciglia non funziona innanzitutto all'inizio come tutti i rimmele anche se questo è un Lush Primer è sempre molto molto ricco di prodotto sullo scovolino e quindi insomma ne rimaneva troppo e poi alla fine chiaramente si è un attimo sistemato e ho scoperto che bisogna farlo asciugare abbastanza bene quindi io che ne so finita la mia skin care prima di truccarmi metto questo sulle sopracciglia faccio il resto come ultimo passaggio del trucco metto il il mascara e così funziona che è una bomba cioè non mi trovo in giro durante la giornata pezzettini di mascara cosa che magari ogni tanto con alcuni tipi di mascara mi succedeva le ciglia sono ben definite regala volume regala apertura lo sguardo mi piace tantissimo e Anto avevi ragione ho scoperto come usarlo e quindi adesso si che funziona mi piace mi piace davvero tanto quindi ve lo consiglio un prezzo stupido adesso non ricordo più se 299 o 399 comunque una cosa del genere ottimo prodotto mi piace davvero tantissimo un prodotto invece che sto utilizzando da tanto tempo e che non finisce più e che mi piace davvero da morire è questo che è un burro labbra emolliente che mi hanno regalato al tigotà in una spesa poi mamma mia che vinto poi l'ho comunque ricomprato perché lo volevo tenere in scorta è favoloso io lo metto tutte le sere prima di andare a letto non ho più una pellicina anche se magari non mi ricordo di fare ogni tanto lo scrub labbra è buonissimo contiene il latte di avena aspettate eh no con estratto di avena biocertificato spremuto a freddo e qui non si vede niente buono 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 ed è la marca l'idriadi che è la marca del tigotà costa 3 euro e 99 questo me lo ricordo e per me è il miglior balsamo labbra provato fino adesso non mi piace di giorno cioè non mi piace di giorno di giorno non lo metto perché comunque ho il rossetto ho il bla il il lucida labbra sono svarionata veramente fa niente ma non rifaccio il video mi prendete perché mi volete bene così e questo lo metto alla sera prima di andare a letto anche abbondante anche al di fuori delle labbra oggi ho messo la matita come ha insegnato Moira nel suo ultimo video si vede? matita rossetto eh il nas e quindi buono per un prezzo così non non troppo alto anche perché io lo sto usando tutte 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 le sere praticamente da dopo natale direi che è stato ampiamente ammortizzato ultimi due prodottini questo era eh parte del bottino che avevo scovato al al iperal l'avevo pagata un euro e 99 questa crema mani è buonissima 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 leggera si assorbe subito eh anche se messa come impacco serale nel giro di dieci minuti un quarto d'ora mh la pelle le mani la se la mangiano praticamente e le mani rimangono morbide io ho provato anche a lavare due o tre volte cioè l'ho messa poi ho lavato le mani perché in cucina ho fatto altri lavori le mani comunque rimangono morbidissime per un euro e 99 eh trovata in promo direi che ne vale assolutamente la pena anche perché ehm c'è cento per cento ehm avena naturale senza paradimi senza parabini delicata testata per il nickel ehm con la vitamina E e olio di argan mi è mi piace davvero davvero tanto infatti ne sto sono quasi arrivata qua perché la sto veramente ehm mangiando ne sto proprio utilizzando tanta più volte al giorno mi piace questa è un'ottima crema mani anche qui ne ho una ehm aperta al lavoro una in borsa e una casa non mi sembra di dover ecco averne troppe in giro anche perché poi ripeto le scorte vanno bene e finché rimangono chiuse poi quando le si apre vanno male mi spiace anche buttare buttare il prodotto altra scoperta ottima che ho fatto è questa acqua fresca spray che avevo preso nel nella mia spesona Aldem di Alverde mi sta piacendo tantissimo questa nei giorni ehm in cui faceva caldo caldo la l'ho messa in frigorifero e me la spruzzavo durante la giornata in casa quando faceva caldo e quando c'erano i momenti in cui sudavo parecchio ehm nella parte superiore del corpo e sulle braccia sul viso no perché ehm se non ricordo male contiene contiene l'alcol però non non si sente non non è come come quel tonico orrendo che ha fatto vedere l'altra volta ha un profumo delizioso di lime e non c'è solo il lime però eh zenzero lime hai l'impressione che non di cocco ma c'è una nota dolce che non riesco a percepire ma che è buonissima quindi davvero fantastica e ehm ci sono anche degli oli essenziali naturali bio e secondo me lascia la pelle leggermente idratata poco eh non come una crema che voi vi mettete ma lascia la pelle leggermente idratata e ehm è molto molto piacevole perché nulla secca sapete che tante volte quelle acque ehm profumate che ci sono in giro tendono un po' a seccare la pelle no? sembra che al momento si sia idratata poi dopo rimane molto asciutta e questa assolutamente assolutamente no ha veramente un profumo delizioso si sente tantissimo il lime e lo zenzero ed è molto molto buona ehm conto di portarmela in ufficio e di metterla nel frigorifero in modo che se serve sia anche a me che alla mia collega ce l'abbiamo lì pronta e spruzzatina e si toglie la calura della giornata va bene ragazzi e ragazze bella gente è stato un video molto complicato dovevo dirvi quattro stupidate ma mi sono impappinata ma fa niente dai eh così è la vita prendiamoci per come siamo e ed è proprio una semplice chiacchierata come se fosse qui nella foste qui con me nella mia camera hobby che eh è sempre più un delirio e e un casino di di tempo ne abbiamo sempre poco tutti eh tutti e io non sempre cioè mi piacerebbe registrare molti molti più contenuti ma alcune volte appunto ci sono anche altre priorità che ci portano via del tempo ed è giusto che che sia così va bene eh buon pomeriggio buona continuazione ci vediamo presto e eh sempre su questo canale sono svarionata va bene ciao buon pomeriggio a presto bacioni e grazie grazie per essere stati con me a presto